Una cosa che seguiremo costantemente insieme al Comune, a partire appunto da oggi, con l'obiettivo di non perdere tempo durante un apparto molto complesso, di dare questo servizio ai cittadini, di genere appunto tra 5 anni. Ci sono già numerosi cantieri aperti, naturalmente ci sarà un impatto sul traffico, rumore, eccetera. Un po' più avanti questo vuol dire che potremo avere anche meno tendi per i pendolari, però d'altronde quando si mette a posto casa e ci si abita dentro, qualche disagio si ha, ma tra 5 anni chi vorrà andare da Volta a Terralba avrà due binari tutti per sé e questo avrà un valore enorme. Io confido di poter arrivare a sollecitare perché vengono mantenuti i tempi, allora un 2016 che dovrebbe dare i binari per poter avere questo servizio importantissimo per il trasporto pubblico e dall'altra parte un coordinamento, una relazione perché si agisca ferendo il territorio nel minore modo possibile, quindi con i minori disagi possibili.